E' stato colto da un malore mentre si trovava alla guida della sua auto, per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, il malore gli è infatti risultato fatale. E' successo attorno alle 9 lungo via Marconi a Montevarchi, la vittima era alla guida di un'auto assieme alla moglie, ha perso il controllo della vettura proprio mentre si è sentito male, poi si è schiantato contro un'altra macchina. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con auto mediche ed ambulanza, in un primo momento era stato allertato anche l'elisocorso Pegaso che però è ripartito subito dopo, per l'uomo infatti non c'era più nulla da fare, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Montevarchi.